In questo video vediamo le 5 migliori webcam in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Logitech. La webcam Logitech C920HD Pro trasmette video Full HD e 1080p a 30 fotogrammi al secondo, sia su Skype che in streaming, si collega al dispositivo tramite USB. Qualità video nitida, collega la tramite Wi-Fi, consente anche a professionisti di registrare contenuti ricchi, fluidi, mostra le tue abilità o i tuoi interessi su YouTube in modo professionale. Grazie alla correzione automatica della luminosità HD, la telecamera webcam C920 ottimizza le condizioni di illuminazione e produce immagini luminose e bilanciate. Il prezzo è di circa 70 euro ma trovi il link sotto al video. Numero 4 Al quarto posto troviamo Uki. Alta risoluzione di 1080p, con un sensore di immagine CMOS, la webcam, la cui risoluzione è di 1080p offre un video chiaro e nitido per conversazioni e registrazioni video, offre una buona prestazione anche nelle stanze scarsamente illuminate. Microfono stereo integrato, i due microfoni digitali assicurano un suono chiaro e naturale riducendo notevolmente il rumore di fondo. Plug play, grazie al cavo USB per le periferiche video, uvv, non hai bisogno di installare driver o software, basta collegarlo alla porta USB del dispositivo. Il prezzo è di circa 50 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 Il suono più puro e chiaro, audio stereo superiore, che consente un suono chiaro e naturale, disponibile per catturare l'audio entro 20 piedi senza problemi. Ottimo per webinare videoconferenze. Che è la scelta migliore per videoconferenze con un suono chiaro in ambienti rumorosi. Il prezzo è di 35 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Razer. Mantiene un'illuminazione uniforme e lusinghiera ed elimina le ombre dure con livelli di luminosità regolabili. La Razer Q supporta lo streaming sulle piattaforme popolari, come Open Broadcaster Software e Xprita. Grazie all'autofocus rapido e preciso, non devi preoccuparti di rimanere fermo di fronte alla telecamera tutto il tempo. Grazie alle sue dimensioni compatte e portatili, la Razer Q può essere facilmente trasportata nel tuo zaino per portarla in viaggio. Il prezzo è di 100 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.